Ok, buongiorno a tutti, sono Francesca Ferrara del Formet, sono la responsabile del progetto che facciamo di formazione per il personale delle amministrazioni della Regione Piemonte. Oggi parliamo delle modifiche alla legge 241, soprattutto quelle introdotte dagli ultimi decreti, dal decreto 76 del 20 e dal decreto 77 del 21. Pochi minuti per introdurre l'argomento di oggi e per ricordarvi complessivamente come funziona questo programma di formazione realizzato assieme alla Regione Piemonte, come sapete è dedicato esclusivamente alle amministrazioni della Regione. Abbiamo già realizzato alcuni webinar e questi che vedete successivamente elencati sono, dopo quello di oggi dell'8 febbraio, sono quelli già programmati fino al primo di marzo, dove tratteremo la tematica dei procedimenti e dei titoli abitativi in etilizia per le attività commerciali e per gli impianti di comunicazione elettronica, che sono stati individuati come argomenti di rilevanza e di interesse da parte delle amministrazioni e soprattutto da parte dei responsabili che lavorano all'interno degli sportelli unici per le attività produttive. Il programma non si ferma qui perché abbiamo ancora, diciamo, un mese, un mese e mezzo per realizzare altre attività. Se sarà possibile faremo degli incontri a livello territoriale nella Regione Piemonte sotto forma seminariale, altrimenti abbiamo già programmato per il mese di marzo e del mese di aprile ulteriori iniziative online su tematiche che ci sono state segnalate come tematiche di interesse. Qui riportiamo di nuovo le informazioni su come iscriversi all'evento, ovviamente prima però bisogna dare perché ovviamente voi che state partecipando lo avete sicuramente fatto, ma se qualche vostro collega che non si è ancora iscritto volesse partecipare a questo programma o ai singoli webinar deve ovviamente inviarci una scheda anagrafica con i propri indirizzi e altri elementi di riferimento a questo indirizzo che è il piemonte su app.chiocciolaformets.it. A questa pagina, che è la pagina del progetto, sotto vedete l'indirizzo, troverete tutte le registrazioni dei webinar già effettuati assieme alle slide che sono state presentate, quindi anche se i vostri colleghi non hanno seguito i primi webinar possono andarsi a rivedere e anche per voi sono a disposizione le slide presentate dai relatori e cosa importante anche le risposte alle domande che sono state poste in chat, quelle più rilevanti e soprattutto quelle alle quali durante il webinar non è stato possibile rispondere, dati i tempi un po' ristretti. Alcuni di voi hanno segnalato che sarebbe opportuno a volte avere dei tempi più lunghi, però in genere un'ora e mezza è quella che viene considerata la durata ottimale di un webinar. In prospettiva possiamo anche vedere, diciamo, allungarci di una mezz'ora e prevedere anche qualche modalità in cui voi partecipanti potete essere più partecipativi o proponendovi con alcuni interventi o potendo intervenire direttamente. Questo è il programma di oggi, fino alle 11 ci sarà Riccardo Roccasalva che parlerà dell'argomento che vi ho illustrato, dopodiché dalle 11 in poi risponderà alle domande che vi invito a porre in chat e questo augurandovi diciamo un buon webinar. Poi riportiamo i principali argomenti che saranno trattati, che sono tutti argomenti molto rilevanti e a volte di difficile trattazione, sul quale sono intervenuti delle modifiche rilevanti all'interno, previste all'interno dei due decreti legge che hanno modificato la 241 e adesso vedremo con Riccardo Roccasalva anche quanto queste sono in qualche modo applicabili da parte vostra. Vi ricordo quindi di porre le domande in chat e all'indirizzo dove siete iscriviti, che è questo qui riportato nell'ultima slide, troverete non immediatamente o diciamo ma nei prossimi giorni, fra due tre giorni, sia la registrazione, sia le slide e sia le risposte alle domande che posto in chat alle quali non è stato possibile rispondere. Vi auguro buon lavoro, io sarò con voi per tutto il webinar, ringrazio anche Stefania Mulas che ci sta dando supporto, visto che Paola Pirani oggi non era disponibile e prego Stefania di caricare le slide di Riccardo Roccasalva e noi ci teniamo in contatto. Grazie. Prego Riccardo. Grazie Francesca. Allora, come è stato detto, oggi trattiamo essenzialmente delle modifiche alla legge 241 apportate dagli ultimi due decreti di modificazione, quindi il decreto 76 del 2020 e il decreto legge 77, quello dello scorso anno del 2021. Ci sono state ulteriori modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, ma qui trattiamo giusto le principali che ci servono nella gestione dei procedimenti, del procedimento unico e più in generale del procedimento amministrativo. Questi sono gli argomenti che tratteremo nella giornata di oggi, divisi in due blocchi, il primo relativo alle modifiche apportate nel 2020 e il secondo blocco le modifiche apportate nel 2021 dal decreto legge 77. Allora, vediamo la prima importante innovazione introdotta dal decreto 76 del 2020. È stato introdotto nel corpo dell'articolo 2 un nuovo comma. Vi ricordo che l'articolo 2 è quello che si riferisce in generale ai termini del procedimento amministrativo. Qui è stato introdotto un nuovo comma 8 bis. Allora, quasi tutte faccio un'introduzione di carattere generale, quasi tutte le innovazioni, le modifiche che troviamo alla legge 241, di cui parleremo stamattina, hanno la finalità di snellire e di velocizzare i tempi del procedimento, quindi diminuendo in qualche modo la discrezionalità del responsabile del procedimento nello stabilire se chiudere un procedimento, attendere dei pareri e quant'altro. Quindi è tutto nella direzione della velocizzazione, nello snellimento dei tempi. Qui in particolare, dicevo, con questo nuovo comma introdotto nel corpo dell'articolo 2, il comma 8 bis, si prevede, proprio per incentivare il rispetto dei termini, il fatto che alcuni provvedimenti adottati fuori termini diventano inefficaci. In questo modo viene data piena operatività al principio del silenzio assenso. Cosa vuol dire inefficaci? Inefficaci non vuol dire nullo, non vuol dire annullabile, vuol dire che il parere in sé teoricamente valido, il responsabile del procedimento non ne deve tenere conto. Quindi è come se non esplicasse effetti, questa è l'inefficacia che non è, ripeto, non è l'annullabilità o l'annullità, è semplicemente un atto che in sé per sé formalmente è valido ma non esplica effetti, quindi il responsabile del procedimento non ne deve tenere conto. Quindi naturalmente non parliamo di tutti i provvedimenti, non di tutti gli atti adottati fuori termini, sono inefficaci, ma soltanto alcuni, però come vediamo nell'elenco di questa slide sono atti importanti. In particolare ci riferiamo ai pareri resi nella conferenza dei servizi, quindi sia i pareri resi all'interno della conferenza semplificata, dopo il termine previsto dei 45 e dei 90 giorni, sia i pareri resi nell'ambito della conferenza dei servizi contestuali o simultanea, quella di cui è l'articolo 14 ter che già abbiamo trattato in un precedente webinar, i pareri che giungono dopo l'ultima riunione, perché vi ricordate l'articolo 14 ter prevede che nell'ultima riunione il responsabile del procedimento acquisisce tutti i pareri e poi decide, nel senso dell'autorizzazione o del rigetto della domanda, sulla base delle prevalenti posizioni espresse. Quindi qua si prevede che i pareri che arrivano dopo quest'ultima riunione sono inefficaci, cioè come dicevo prima il responsabile del procedimento non deve tenerne conto. Naturalmente questo non è sempre vero, c'è una rilevante eccezione che poi vedremo tra un attimo. Però questo è quello che fondamentalmente è previsto da questo nuovo comma 8 bis dell'articolo 2. Ancora, sono inefficaci i pareri che vengono resi tra pubbliche amministrazioni nell'ambito del cosiddetto silenzio assenso procedimentale. Anche qui vi sono state delle innovazioni, apro giusto un inciso, il silenzio assenso procedimentale oggi non lo tratteremo per motivi di brevità, non è il silenzio assenso quello classico, quello previsto dell'articolo 20 della legge 241 del 90 che è quello che si riferisce al cosiddetto assenso provvedimentale, cioè si riferisce ai rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Qui invece parliamo di un particolare tipo di silenzio assenso introdotto nella 241 dalla riforma Madia nel 2015 attraverso l'inserimento dell'articolo 17 bis. Perché non ne parleremo oggi perché si tratta di un silenzio assenso che riguarda esclusivamente i rapporti tra pubbliche amministrazioni e come ha ricordato anche il Consiglio di Stato non è un silenzio assenso che si applica ai procedimenti per essere pratici del SUAP o del SUE. Perché ci ha ricordato il Consiglio di Stato che il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni è quello che riguarda procedimenti portati avanti da una pubblica amministrazione nel proprio interesse, laddove invece il SUAP agisce nel chiedere un parere o il SUE eccetera, agiscono nell'interesse del privato. Quindi io ricevo una domanda dal privato e chiedo un parere ad esempio alla Regione Vigile del Fuoco, al Genio Civile e quant'altro, nell'interesse sempre del privato. Quindi non si applica l'articolo 17 bis a questi procedimenti unici, diciamo. Ecco il motivo per cui per brevità oggi non ne parliamo. Però comunque è giusto sapere che anche per queste tipologie di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni il parere dato fuori termine è un parere inefficace. E infine, ultimo ma non meno importante assolutamente, ve ne avrà già parlato il collega l'ingegnere Cugioni quando ha trattato della scia, è prevista l'inefficacia delle richieste di conformazione e dei divieti di prosecuzione delle attività nel caso di scia. Quindi diciamo i due rimedi istruttori, uno meno grave la richiesta di conformazione, uno più grave il divieto di prosecuzione delle attività previsto dall'articolo 19,3 della 241. Quindi anche in quel caso, come avete, c'è un termine stabilito dallo stesso articolo 19 che è di 60 giorni per la scia amministrativa e di 30 giorni per la scia edilizia, ecco in questo caso è previsto che appunto le richieste di conformazione e i divieti di prosecuzione sono inefficaci, così come parimenti sono inefficaci nel caso della scia unica, il cui argomento è stato già trattato dal collega, sapete che l'articolo 19 bis prevede un termine generale di 55 giorni per il rilascio dei pareri o comunque per il controllo delle autocertificazioni da parte degli altri enti, anche in questo caso eventuali verifiche sulle autocertificazioni che dovessero arrivare dopo il termine di 55 giorni o di 25 nel caso di scia edilizia sono considerati inefficaci. Messa così naturalmente, la cosa sembra abbastanza drastica, nel senso che noi come responsabili del procedimento ci troveremmo a dover considerare come non dati e quindi come favorevoli incondizionati anche dei pareri arrivati dopo uno o due giorni rispetto al termine massimo di scadenza, quindi si arriverebbe a delle conseguenze francamente paradossali, per cui la norma ha previsto un contemperamento, un'eccezione che qui trovate alla fine di questa slide, cioè qual è l'eccezione? che si dice il parere tardivo è inefficace a meno che non ricorrano sulla base di una valutazione discrezionale, naturalmente parliamo di discrezionalità tecnico-amministrativa in capo al responsabile del procedimento, appunto nel caso in cui ci sia una valutazione secondo cui è possibile per analogia applicare i principi posti dall'articolo 21 nonies sull'annullamento d'ufficio. Mi rendo conto che detta così non vuol dire perfettamente nulla, adesso infatti apriremo subito una parentesi sull'articolo 21 nonies e capiamo quali sono questi requisiti. Semplicemente ricordatevi che qualora vi sia la possibilità sulla base di una valutazione discrezionale fatta dai responsabili del procedimento di applicare per analogia i presupposti e le condizioni che l'articolo 21 nonies espone per l'annullamento d'ufficio, allora è possibile in qualche modo salvare il parere tardivo e non considerarlo inefficace. Quindi questa è l'eccezione. La regola è che il parere tardivo è inefficace a meno che appunto il responsabile del procedimento non ritenga di poter applicare analogicamente l'articolo 21 nonies e quello sull'annullamento d'ufficio. Prima di arrivare quindi all'illustrazione di questi di quali siano questi presupposti e condizioni faccio giusto un passaggio come dire di carattere storico nel senso che questo è un principio che troviamo un po' per molti istituti introdotti nella 241 dai decreti semplificazione 2020 e 2021, vengono sistematizzati, vengono resi generali e permanenti dei principi degli istituti che già erano stati introdotti all'inizio del 2020 o nel cosiddetto decreto rilancio, il decreto 34 del 2020. Anche in questo caso lì però nel decreto rilancio erano tutti istituti temporanei e relativi appunto all'emergenza pandemica. Qui invece questi istituti appunto introdotti in maniera temporanea e provvisoria diciamo legata appunto al superamento dell'emergenza pandemica vengono invece con i decreti semplificazione che stiamo trattando stamattina vengono in qualche modo resi A permanenti e B relativi a tutti i procedimenti amministrativi, non solo a quelli finalizzati all'uscita dalla pandemia. E quindi anche in questo caso l'articolo 264 prevedeva che appunto in quelle ipotesi, soprattutto nel caso della conferenza dei servizi ma non solo, il responsabile del procedimento è tenuto, quindi vedete non c'è discrezionalità è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso. Qua con queste innovazioni che tratteremo stamattina vediamo che appunto il principio viene in qualche modo esteso a tutti i procedimenti amministrativi. Allora veniamo a questi presupposti. Quali sono i presupposti previsti per l'annullamento d'ufficio sulla base dei quali i responsabili del procedimento per analogia può ritenere che un parere ancorché tardivo sia efficace. Allora intanto giusto un cappello di carattere generale perché è bene ricordarcelo tutti che cos'è l'annullamento d'ufficio. L'annullamento d'ufficio è stato introdotto nella 241 nel 2005 attraverso l'inserimento dell'articolo 21 nonies, prima non esisteva, era soltanto una come dire una ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza che si era formata soprattutto nel campo dei permessi di costruire prima delle concessioni edilizie e poi del permesso di costruire. Che cosa è l'annullamento? L'annullamento è un atto di ritiro così come la revoca che però a differenza della revoca colpisce un atto che è originariamente illegittimo. Questo è il primo requisito affinché si possa parlare di un annullamento d'ufficio e lo trovate alla lettera A. Quindi deve essere un provvedimento che è nato illegittimo. Cosa vuol dire illegittimo? Vuol dire ai sensi dell'articolo 21 octies comma 1 della 241 che è affetto da uno dei tre vizi tipici dell'atto amministrativo, cioè violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. Quindi un atto che nasce affetto da uno di questi tre vizi è un provvedimento illegittimo che quindi è suscettibile di annullamento, è un atto annullabile. Questo è il primo requisito che pone l'articolo 21 nonies affinché si possa procedere all'annullamento d'ufficio. L'altro requisito importante è che deve essere, naturalmente deve essere data ampia motivazione nel provvedimento di annullamento, ci mancherebbe altro perché è un atto restrittivo nei confronti del privato, quindi andiamo a creare un danno non indifferente al privato, quindi è importante motivare nell'apparato motivazionale, noi spesso facciamo pagine e pagine di premesse e poi nell'aspetto motivazionale magari a volte facciamo dei richiami a norme, eccetera. Invece è molto importante motivare per poi resistere nel momento in cui veniamo convenuti davanti al giudice amministrativo. Quindi è molto importante dare conto non soltanto dell'illegittimità originaria ma anche il terabì che esiste, non solo esisteva all'epoca ma sussiste ancora adesso, un interesse pubblico concreto e attuale, quindi diverso dal mero ripristino della legalità violata. Questo è un aspetto molto importante che la giurisprudenza ha sempre posto in evidenza, ripeto, soprattutto nel caso dell'annullamento dei permessi di costruire. Non basta una generica esigenza di ripristinare la legalità violata, occorre che vi sia qualcosa in più, quindi devo aver tenuto conto che vi sia un interesse pubblico concreto e attuale, qualcosa di sostanziale. E infine, devo dare conto che ho considerato, ho valutato le posizioni in capo ai destinatari ma anche ai controinteressati e non ritengo che vi siano posizioni consolidate. Questo è molto importante perché questo vuol dire, poi si lega alla tempistica che poi vedremo subito dopo, qua introduciamo il discorso per cui un conto è annullare un provvedimento che si è formato dopo da una settimana, da un giorno, da un mese, un conto è andare a colpire un provvedimento a distanza di a volte di anni. Quindi non devono esservi posizioni consolidate in capo ai destinatari. Quindi è un provvedimento discrezionale dove bisogna ponderare, appunto, come trovate nella slide, l'interesse pubblico a rimuovere il provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti. Quindi è una valutazione molto complessa e molto da fare con grande prudenza proprio perché stiamo andando non soltanto a eliminare un provvedimento giuridico favorevole, un'autorizzazione, un permesso di costruire, quello che sia, un provvedimento di attribuzione di incentivi economici, eccetera, ma lo stiamo facendo con efficacia retroattiva perché l'annullamento d'ufficio è un atto che retroattivamente, proprio perché colpisce un atto che noi assumiamo essere nato già illegittimo, quindi l'ovvia conseguenza è che l'efficacia è retroattiva, come si dice in un brocardo latino, ex tunc, cioè da allora. Non è un qualcosa che nasce oggi, ma non facciamo altro che prendere atto che dobbiamo annullare un provvedimento che era nato illegittimo. Quindi qual è la conseguenza? Che travolge l'annullamento tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che si sono formati dall'emanazione dell'atto che andiamo ad annullare. Quindi, per chiudere questa ampia parentesi sull'annullamento, che cosa c'entra l'annullamento con la possibile, diciamo così, salvezza, perdonatemi il termine improprio, dei pari ritardivi? Quindi, se mettiamo insieme l'articolo 2,8 bis e l'articolo 21 nonies, è come se dicesse che il responsabile del procedimento deve sempre considerare il parere ritardivo inefficace e quindi non tenerne conto, a meno che non dia conto nel provvedimento con cui fa salvo il parere ritardivo che vi siano proprio queste condizioni. Ovviamente qua non parliamo di illegittimità originaria del provvedimento, ma parliamo soprattutto del fatto che ho dato conto che vi è un interesse pubblico concreto e attuale, in questo caso non alla rimozione, ma alla salvezza del parere ritardivo, perché magari c'è un interesse pubblico a considerare quel parere prevalente rispetto alla mera applicazione meccanica del comma 8 bis. E poi, soprattutto, non vi sono posizioni consolidate in capo ai destinatari, quindi chiaramente il parere sì è tardivo, ma tutto sommato mi è arrivato dopo un tempo talmente breve rispetto alla scadenza che non vi sono particolari problemi a considerarlo salvo, diciamo così. Quindi a queste condizioni e debitamente motivando nell'atto, io posso assolutamente considerarlo salvo. Però ripeto, è sempre importante, perché ricordiamoci, non ci sono soltanto i diretti interessati, ma anche i controi interessati. Noi come responsabili del procedimento ci troviamo sempre, e lo dico sempre tra l'incudine e il martello, è sempre bene scrivere due righe del perché ho ritenuto di salvare, diciamo, un parere che mi era arrivato oltre termine, e quindi teoricamente inefficace. Dicevamo che, per chiudere il discorso sull'annullamento d'ufficio, e qua apriamo, per motivi di, come dire, di sistematicità, ne parliamo adesso anche se si tratta di un'innovazione apportata dal decreto 2021, dal decreto semplificazioni 77 del 2021, l'annullamento deve essere adottato entro un termine ragionevole e comunque non superiore a, fino al maggio dell'anno scorso, fino a 18 mesi. Adesso invece il termine è stato portato a 12 mesi. Quindi questo è stato fatto per motivi legati, per motivi legati come leggiamo nella relazione illustrativa del decreto 77 del 2002 e del 2021, per consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato e l'interesse pubblico. L'interesse pubblico qual è? È quello alla rimozione, no? Naturalmente del provvedimento legittimo attraverso il suo annullamento. Però c'è anche l'interesse del privato a che sia tutelato il suo legittimo affidamento. Naturalmente qua parliamo di legittimo. Se poi invece l'atto che vogliamo annullare lo vogliamo annullare perché il provvedimento favorevole di primo grado era stato emanato sulla base di dichiarazioni durosamente false o mendaci da parte dell'interessato, quindi mi era stata rappresentata una realtà tecnico-giuridica che in realtà era falsa sulla base di false dichiarazioni dell'interessato, è chiaro che in quel caso non c'è nessun legittimo affidamento in capo al privato e quindi scompare il termine massimo di 12 mesi. Quindi in questo caso è possibile farlo anche dopo il termine di 12 mesi. Infatti lo leggete in questa slide, i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, quindi articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di 12 mesi. Naturalmente qua io aggiungerei altro che dopo la scadenza di 12 mesi, qua parliamo dopo la scadenza di forse anche 3-4 volte tanto, perché non basta che noi diciamo c'è un atto falso o mendaceo, qua parliamo del fatto che il reato, perché questo è un reato, false dichiarazioni dal pubblico ufficiale, è qualcosa che deve essere accertato con sentenza passata in giudicato, quindi una sentenza di primo o secondo grado penale, non appellata, o una sentenza della Cassazione penale, quindi parliamo di termini dati ai miei tempi della nostra giustizia, anche quella penale, parliamo di anni a volte. Comunque anche in questi casi è possibile annullare un atto, quindi anche a distanza di anni, proprio perché qui alla base c'è un reato, quindi le false dichiarazioni, quelle previste dal codice penale, per cui non c'è assolutamente problema ad annullare un atto anche a distanza di anni, ma la regola generale, tranne questi casi estremi, è che ho 12 mesi per poter annullare un atto. Questa quindi era il primo istituto importante, introdotto quindi l'inefficacia dei pari ritardivi attraverso il nuovo comma 8 bis dell'articolo 2. Un altro aspetto importante che è stato inserito nel Decreto 76, sempre finalizzato naturalmente alla velocizzazione dei procedimenti amministrativi, è l'uso sistematico e ordinario della telematica. Lo vediamo attraverso la modifica di alcuni articoli che ho qui in questa slide raggruppato. Il primo articolo che è stato modificato, per chi lavora nel SUAP e nel SUE, naturalmente questo è forse una novità meno incisiva, perché chi lavora nello sportello unico sa dal 2010 per il SUAP, dal 2012 per il SUE, che il procedimento deve essere svolto in maniera telematica, anche se poi vediamo che non sempre questo principio è sempre applicato anche nel caso del SUAP, però, e del SUE soprattutto, però insomma il principio c'è ed è valido come legge speciale da diversi anni. Però noi consideriamo che la 241 è una legge generale su tutti i procedimenti amministrativi e quindi il principio è importante. Qual è il principio? Il testo che trovate barrato è il testo che vigeva fino al settembre del 2020, dove si diceva che le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. Capite bene che incentivare non vuol dire che una cosa sia obbligatoria, vuol dire fatelo il più possibile. Questo inciso è stato eliminato ed è stato sostituito con la parte che è trovata in azzurro, sottolineato. Quindi le pubbliche amministrazioni agiscono, non incentivano, agiscono mediante strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse PA e tra queste e i privati. Quindi in tutti i rapporti, sia con le altre amministrazioni sia con i privati, oggi noi agiamo mediante strumenti informatici e telematici. Vi ricordo come tecnica di drafting normativo, come si usa a dire come tecnica di scrittura delle norme, che quando si usa l'indicativo, il legislatore vuol dire bisogna fare così. Quindi le pubbliche amministrazioni agiscono, vuol dire le pubbliche amministrazioni devono agire mediante strumenti informatici e telematici. Quindi niente raccomandate AR, neanche fax. Il fax non è più legittimo nei rapporti, ad esempio, tra le PA. Quindi soltanto strumenti telematici e informatici. Così come parallelamente, sempre per incentivare l'uso della telematica, nell'articolo 5 e nell'articolo 8 è stato previsto che dobbiamo dichiarare al privato, oltre a tutta una serie di informazioni che già c'erano, qual è l'unità organizzativa competente, il nominativo dei responsabili del procedimento, anche il domicilio digitale. Che cos'è il domicilio digitale? è nient'altro che la nostra PEC, la nostra email istituzionale, o il portale attraverso il quale il privato, facendo il login, può entrare e parlare con noi, fare richieste di accesso agli atti e quant'altro. Quindi questo è il domicilio digitale che poi trovate anche nell'articolo 8, quindi, che vi ricordo, disciplina il contenuto obbligatorio della comunicazione e del via del procedimento. Sempre per restare all'articolo 8, c'è una cosa interessante di cui dobbiamo tenere conto e che quindi va inserito nelle nostre comunicazioni di avvio del procedimento. Vi ricordate chi di voi, insomma, lavora già da qualche anno nell'APA, che uno dei contenuti tipici della comunicazione è l'ufficio verso il quale è possibile prendere visione degli atti. La modalità normale è scrivere è possibile prendere visione degli atti presso l'ufficio del X che situa la via, eccetera, eccetera. Oggi invece questa è una modalità residuale. La modalità ordinaria è che noi dobbiamo indicare nell'emore che venga attivato un punto di accesso telematico presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, che è una cosa, insomma, che ancora non è perfettamente operativa. Dobbiamo indicare le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti della legge. Quindi noi dobbiamo indicare come è possibile prendere visione degli atti facendo eventualmente accesso di carattere civico generalizzato o l'accesso documentale al proprio fascicolo informatico o esercitare i diritti di partecipazione al procedimento di accesso agli atti previsti dalla legge in via telematica. Solo se ciò non è possibile, vedete, la lettera di bis, dobbiamo indicare l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti di quegli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità telematiche di qui sopra. Quindi la regola è che devono poter consentire l'accessibilità degli atti del procedimento in via telematica o che questo non fosse possibile in via residuale quale è l'ufficio verso il quale è possibile prendere visione degli atti. La terza importante modifica introdotta dal decreto 76 del 2020 riguarda la cosiddetta comunicazione di motivi ostativi dell'articolo 10 bis vi ricordate anche questo è stato introdotto già da qualche anno nel 2005 nel corpo della 241 che cos'è? Intanto facciamo giusto un cappello introduttivo lo ricordiamo a tutti vi ho citato qua due sentenze del Consiglio di Stato che bene illustrano nel 2010 che illustrano che cos'è questo istituto. Allora esprime un carattere generale la cui razio la cui finalità è quella di consentire all'interessato anche se ha già partecipato al procedimento di poter dire la sua prima di un definitivo atto di rigetto che l'amministrazione abbia maturato quindi anche se lui ha già partecipato al procedimento anche se ha già esercitato le sue facoltà di partecipazione comunque può dire la sua un'ultima volta prima che maturi un provvedimento negativo da parte dell'amministrazione precedente e quindi gli effetti sono due fondamentalmente la natura esquisitamente endoprocedimentale della comunicazione di motivi ostativi che vuol dire endoprocedimentale vuol dire che è una comunicazione che agisce soltanto all'interno del procedimento non ha in sé la capacità la forza di produrre direttamente effetti lesivi nei confronti dell'interessato la comunicazione del via del procedimento che è un tipico istituto diciamo di buona amministrazione del rapporto di leale collaborazione tra pubblico e privato è un qualcosa che non solo non lede gli interessi del privato ma anzi lo aiuta a dire la sua ripeto come dicevamo prima per un'ultima volta prima del provvedimento negativo quindi non è qua un qualcosa che è aggredibile davanti al TAR davanti al giudice amministrativo è un atto di natura endoprocedimentale e serve al privato a capire bene quali sono le ragioni che stanno orientando il responsabile del procedimento oppure in essere un provvedimento negativo e questo perché perché si può creare siamo già nella fase decisora del provvedimento si può creare una dialettica come dire un'interlocuzione tra l'interessato e il responsabile del procedimento che potrebbe portare a una diversa conclusione dell'iter quindi io ascoltate le motivazioni dell'interessato posso rideterminarmi in maniera favoribile chiaramente qua stiamo parlando sempre la platea di questo webinar è come sappiamo formato in maggioranza da addetti responsabili su app su eccetera è chiaro che se io faccio come responsabile su app una comunicazione di motivi ostativi lo farò probabilmente sulla base di paesi che sono stati espressi da altri uffici o addirittura da altri enti in questo caso la come dire la la proposizione la presentazione di osservazioni di memorie non me la terrò e valuterò io ma la la trasmetterò all'ufficio agli enti che avevano espresso un parere negativo per poi affinché loro possano trarne tutte le conclusioni necessarie questo è l'istituto in generale vediamo allora quali sono le modifiche apportate dal decreto 76 allora intanto sempre nell'ottica della velocizzazione dei procedimenti di cui vi dicevo fino a un anno e mezzo fa era previsto che io davo come responsabile del procedimento dieci giorni continuo a darne questi non sono cambiati solari e consecutivi durante i quali l'interessato può presentarmi memorie documenti osservazioni i quali avevano un effetto interruttivo che vuol dire interruttivo vuol dire che dal momento in cui mi venivano presentate queste osservazioni i termini ricominciavano da zero ok quindi tutto il termine che si era consumato prima veniva cancellato e si ripartiva da zero quindi se era un procedimento che durava 90 giorni i 90 giorni andavano calcolati a far data dalla presentazione delle osservazioni oggi non è più così oggi il termine non è più interruttivo ma è semplicemente sospensivo quindi dobbiamo considerare anche tutto il termine maturato dalla presentazione della pratica finché non gli ho fatto la comunicazione di motivi ostativi naturalmente al netto di eventuali integrazioni documentali che siano state fatte nella fase istruttore altro aspetto importante è stato previsto che diciamo così il dobbiamo indicare soltanto laddove ve ne siano motivi ostativi ulteriori nel provvedimento finale quindi immaginiamo che ho fatto la comunicazione di motivi ostativi mi sono arrivate le osservazioni comunque mi sono determinato o perché l'ho fatta io direttamente come responsabile del procedimento o perché ho interpellato gli uffici che mi avevano dato il parere negativo quindi alla fine faccio comunque un provvedimento finale negativo ebbene comunque in questi casi dovrò indicare soltanto i motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni quindi quelli che sono ulteriori rispetto alle conseguenze delle osservazioni e soprattutto questo è un aspetto ancora più importante che vi ho messo in azzurro nel caso in cui il mio provvedimento adottato venga annullato in giudizio perché viva Dio può sempre accadere quindi il privato si rivolge al TAR il TAR annulla il mio provvedimento negativo quando poi il privato torna da me e io per chiedermi l'emanazione di un provvedimento a questo punto favorevole e io invece ritenga di dover nuovamente rigettare la domanda del privato non lo posso fare adducendo motivi ostativi che già conoscevo all'epoca ma che non avevo inserito nel provvedimento questo cosa vuol dire vuol dire che se io ho una serie di motivi ostativi perché li ho fatti io li ho maturati io nel chiuso del mio ufficio perché mi sono arrivati da altri uffici o altri enti come gestione del procedimento unico io tutti i motivi ostativi che emergono dall'istruttore li devo buttare dentro subito sia nella comunicazione di motivi ostativi sia nel provvedimento finale cioè il privato deve essere messo in grado di sapere quali sono tutti i motivi ostativi cioè i motivi che ostano all'accoglimento della sua domanda non me li posso tenere di riserva per future per futuri rigetti questo è il discorso quindi questa questa slide come dire sintetizza le innovazioni all'articolo 10 bis apportate dal decreto 76 del 2020 ogni intanto viene specificato che il compito di motivare il mancato accoglimento dei motivi delle osservazioni spetta al responsabile del procedimento o all'autorità competente autorità competente parliamo naturalmente di procedimenti ambientali quale può essere la via il power la laia eccetera l'agua eccetera eccetera si prevede che vadano indicati nel provvedimento finale di diniego i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni e infine come vi dicevo nel momento in cui io faccio un provvedimento negativo questo provvedimento negativo viene annullato dal giudice il privato torna da me e io hai visto mai mi ridetermino nel senso di fare un nuovo rigetto nel nuovo rigetto non posso addurre motivi o stativi che già emergevano dalla prima istruttoria quindi vi ripeto ancora una volta va buttato tutto dentro nella prima istruttoria qual è la finalità? qua lo troviamo quello che vi dicevo in maniera un po' come dire in maniera molto semplificata lo trovate scritto molto meglio nella relazione illustrativa al decreto legge cioè la finalità è di evitare che l'annullamento che consegue da parte del giudice del Tarro del consiglio di Stato che consegue al mancato accoglimento delle osservazioni in determini plurime reiterazioni cioè ripetizioni dello stesso esito sfavorevole con motivazione ogni volta nella diversa e tutte ostative quindi qual è l'intento è quello di ricondurre l'intera vicenda ad un'unica impugnazione giurisdizionale se io ho tre faccio le ipotesi motivi ostativi li devo mettere dentro tutti e tre in maniera tale che l'interessato possa fare un unico ricorso al Tarro eventualmente dopo al consiglio di Stato evitando quindi che lui debba fare plurimi ricorsi con perdita di tempo e di denaro questo rientra in una normale in una normale applicazione del principio di leale collaborazione tra tra pubblico e privato e vi ricordo che proprio con questi decreti semplificazione 2020-2021 il principio di leale collaborazione pubblico-privato oggi lo trovate come criterio informatore del procedimento amministrativo nell'articolo 1 della 241 quindi è un principio cardine quello importante quello di leale collaborazione appunto tra noi e i privati un'ultima slide sulla comunicazione di motivi costativi per rafforzare per dare concretezza anche in termini di rimedi sfavorevoli all'amministrazione diciamo quindi per sanzionare un comportamento dell'ufficio procedente non conforme ai canoni del 10 bis che cosa ci dice la normativa ci dice che attraverso una modifica non del 10 bis ma di un altro articolo della 241 attraverso una modifica dell'articolo 21 octies comma 2 sull'annullabilità del procedimento amministrativo allora che cosa dice l'articolo 21 octies comma 2 ci dice che il provvedimento amministrativo in generale è sempre annullabile quando è stata sempre annullabile quando diciamo non è stata data comunicazione di avvio del procedimento a meno che a meno che l'amministrazione l'ente procedente dimostra in giudizio ma qui l'onere della prova quindi si ribalta è l'APA che deve dare la prova positiva dimostra in giudizio che anche se avesse per il contenuto evidentemente estremamente vincolato degli istruttori anche se avessi dato ti avessi comunicato l'avvio del procedimento nei fatti nulla avresti potuto dirmi avresti potuto apportare in termini di partecipazione procedimentale tale da farmi cambiare idea quindi da farmi emanare un provvedimento favorevole invece di quello negativo che ti ho emanato quindi questo è un'onere della prova che spetta al privato che chiedo scusa che spetta all'APA quando non ho fatto la comunicazione di avvio del procedimento immaginate dei casi di summa urgenza eccetera eccetera se poi io oltre quindi questa è la regola generale che cosa ha modificato il decreto 76 2020 ha detto questo se oltre alla mancata comunicazione del motivo ostativo io non ho neanche ho anche violato la norma sulla comunicazione di motivi ostativi quindi non mi sono comportato a norma dell'articolo 10 bis non posso mai fornire la prova positiva di qui sopra quindi non posso mai fornire la prova positiva che pur avendo violato i principi del giusto procedimento comunque sia per le istruttorie estremamente vincolata l'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello che in effetti è stato quindi in questo caso l'atto è sempre annullabile l'amministrazione pubblica non deve non può in giudizio fare apportare nessuna prova positiva quindi questa è un'ulteriore come dire sanzione nel caso in cui ripeto l'ente precedente non soltanto non ha comunicato l'avvio del procedimento ma ha anche violato uno dei precetti dell'articolo 10 bis sulla comunicazione dei motivi ostativi quindi in questo caso è sempre annullabile il provvedimento altra materia importante altro aspetto importante previsto questa volta attraverso la modifica dell'articolo 16 della 241 sui pareri apportata dal decreto semplificazione 2020 prima del settembre 2020 l'articolo 16 operava una distinzione cioè parere facoltativo parere obbligatorio l'amministrazione si stabiliva che se il termine decorreva inutilmente quindi io chiedevo un parere e questo parere non mi veniva dato allora diceva la norma l'articolo 16 se si trattava di un parere facoltativo dovevo naturalmente come responsabile del procedimento chiaramente procedere perché era un parere che io avevo ritenuto di chiedere per rafforzare la mia decisione ma non era un parere obbligatorio se invece il parere era obbligatorio io come responsabile del procedimento avevo la facoltà di procedere oggi non è più così oggi quale che sia la natura del parere che sia parere facoltativo o parere obbligatorio in entrambi i casi se decorre il termine di legge previsto devo procedere quindi in entrambi i casi devo procedere indipendentemente dall'espressione del parere quindi come vedete sono tutte modifiche parziali piccole ma che vanno nella direzione di velocizzare i termini del procedimento attraverso la sottrazione di discrezionalità tecnico-amministrazione in capo in questo caso amministrativa in capo al responsabile del procedimento altra modifica molto molto importante poco applicata devo dire ma secondo me veramente veramente importante è quella sulla apportata del 76 che dovremmo applicare di più è quella che l'articolo 12 del decreto 76 apporta nel corpo dell'articolo 18 della 241 che cosa dice l'articolo 18 è quello sull'autocertificazione che poi era trattata specificamente dalla all'epoca quando uscì la 241 nel 1990 la norma di riferimento non esisteva ancora naturalmente il testo unico sulla documentazione amministrativa il DPR 445 del 2000 all'epoca il riferimento era la legge 15 del 1968 nel testo originario l'articolo 18 prevedeva l'obbligo per l'EPA di adottare entro sei mesi sei mesi dalla 241 quindi dall'agosto del 1990 quindi entro l'inizio del 91 di introdurre nel proprio ordinamento misure organizzative in materia di autocertificazione in materia di presentazione di atti e di documenti ora chiaramente la prima modifica apportata dall'articolo dall'articolo 12 del terreno 76 all'articolo 18 della 241 è una modifica di carattere formale cioè l'obbligo diventa permanente non aveva più senso a distanza di oltre 30 anni dall'entrata in vigore della legge parlare di una scadenza entro sei mesi che era inizio del 91 quindi si dice l'obbligo è permanente quindi deve sempre comunque l'APA introdurre misure organizzative volte a favorire l'autocertificazione e soprattutto da un punto di vista di coordinamento normativo il riferimento alla legge 1568 è stato correttamente sostituito con il riferimento al DPR 445 del 2000 quello che vi ricordo prevede proprio la dichiarazione sostitutiva di certificazione degli articoli 46 e 47 quindi dell'atto di notorietà e di certificazione ma soprattutto al di là di questi aspetti più formali più terminologici che pratici quello che invece è stato la novità di rompente è l'introduzione dell'uomo comma 3 bis nell'articolo 18 che cosa dice questo nuovo comma 3 bis nei procedimenti avviati su istanza di parte ok quindi tipicamente i nostri procedimenti di SUAP di SUA eccetera che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati indennità prestazioni previdenziali assistenziali quindi anche procedimenti dell'INPS dell'INAIL e quant'altro contributi sovvenzioni finanziamenti prestiti agevolazioni da parte non delle banche da parte di pubbliche amministrazioni o il rilascio anche di autorizzazione nulla osta comunque denominati quindi in tutti questi casi le dichiarazioni sostitutive quelle previste dagli articoli 46 e 47 del 445 quindi dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o di certificazione sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento tranne naturalmente le disposizioni in materia antimafia questo soprattutto nel apro un inciso ma soprattutto per chi gestisce per chi di voi soprattutto nei comuni non grandi insomma non c'è una non c'è una grande parcializzazione del lavoro per cui uno fa il suo ma fa anche si trova a gestire anche bandi per la concessione di provvidenze di agevolazione a determinate categorie economiche eccetera ebbene sappiate che in questi casi noi non possiamo noi dobbiamo procedere sulla base delle sulla base delle dichiarazioni sostitutive naturalmente questo cosa vuol dire? vuol dire che quando andremo a sulla base quindi soltanto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio naturalmente i controlli bisogna farli perché il potere di autocertificazione del privato determina in maniera correlativa un aumento della sua responsabilità quindi poi ci sono tutte le conseguenze previste dell'articolo 76 del DPR 445 in caso di dichiarazioni false o mendagino ma quella è un'altra storia intanto noi dobbiamo erogare questi benefici economici queste provvidenze eccetera eccetera sulla base delle semplici sulla base delle semplici autocertificazioni cosa vuol dire fatto salvo rispetto delle normative in materia antimafia naturalmente laddove ad esempio parlando di benefici economici il beneficio sia superiore a 150.000 euro perché questa è la soglia prevista dal testo unico della documentazione antimafia quindi il 159 del 2011 in quel caso naturalmente non potremo procedere all'erogazione della provvidenza perché dovremo aspettare della sì del contributo perché dovremo aspettare il riscontro da parte della prefettura ma al di sotto di questa soglia in generale in tutti i casi in cui non occorre effettuare l'informativo alla comunicazione antimafia noi possiamo e dobbiamo portare avanti questi procedimenti e erogare queste provvidenze sulla base della dichiarazione dopodiché come in tutti i casi come nella scia come in tutti i casi in cui noi prendiamo per buone le dichiarazioni sostitutive fatte dal privato se poi ci accorgiamo che vi sono delle dichiarazioni non veritiere nella migliore delle ipotesi naturalmente revochiamo il contributo eccetera o facciamo un atto di rigetto nella peggiore delle ipotesi se riteniamo che vi sia alla base una dichiarazione dolosamente mendace falsa faremo anche le comunicazioni all'autorità giudiziale competente se si è dato un intermediario anche all'ordine competente o professionale competente per il seguito di competenza però questo è un aspetto molto molto importante che soprattutto se voi immaginate in ottica 2020-2021 quindi uscita dalla pandemia serve soprattutto a sbloccare i procedimenti e l'erogazione di incentivi economici che però devo dire ancora adesso non è proprio perfettamente applicato anche qua in questa slide trovate che il decreto rilancio aveva introdotto sempre in ottica covid la possibilità di erogare provvidenze sulla base delle mere dichiarazioni ma aveva un termine 31 dicembre 2020 ed era riferito soltanto ai procedimenti volti all'uscita dalla pandemia ricordate soprattutto tutta la partita degli incentivi dei contributi erogati agli imprenditori un altro aspetto un altro aspetto importante il nuovo articolo 21 deces della 241 questo è proprio un articolo nuovo di ZEC quindi introdotto dal decreto 76 che riguarda la riemissione quindi la nuova emissione di provvedimenti che sono stati già negativi annullati dal giudice amministrativo per vizi inerenti a uno o più degli atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di via ne abbiamo già parlato in un precedente webinar quando dicevamo il fatto che quando dicevamo il fatto che noi come responsabili ad esempio del SUAP non è che ci assumiamo la responsabilità della correttezza formale e sostanziale dei pareri che ci vengono dati noi li prendiamo per buoni e ci viene dato un parere che poi noi lo incorporiamo nel nostro atto unico nel provvedimento unico finale quindi immaginiamo che sia un provvedimento negativo sulla base di una valutazione fatta da un altro ufficio da un altro ente in quel caso naturalmente il nostro atto e questo atto viene impugnato il provvedimento negativo viene impugnato dall'interessato portato davanti al giudice amministrativo e il giudice amministrativo annulla il nostro atto ma perché lo annulla? non perché la nostra istruttoria è sbagliata ma perché il parere del collega dell'altro ufficio dell'altro ente che mi ha dato un parere negativo era un parere evidentemente iniziato in questi casi che cosa succede? ve lo dico in estrema sintesi non si riapre tutto il procedimento amministrativo soprattutto nei casi in cui non sono necessarie modifiche al progetto quindi il progetto rimane quello ma il privato vada in questo caso dal responsabile suo per il responsabile suo dovrà soltanto in questo caso chiedere all'ufficio all'ente che gli aveva trasmesso il parere o i pareri che sono stati annullati dal giudice dovrà chiedergli la riemissione di un nuovo parere questa è la tempistica che trovate naturalmente quando dico pareri annullati dal giudice ricordiamoci anche quello che vi ho detto in un precedente webinar l'unico atto che ha efficacia lesiva nei confronti dell'interessato è il provvedimento unico finale rilasciato dal responsabile suo io ho detto in maniera tecnica annullare il parere però chiaramente il nostro atto il nostro provvedimento unico finale viene annullato nella misura in cui nella parte in cui incorpora dentro di sé un parere che il giudice ha ritenuto illegittimo questa è la tempistica quindi entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente quindi il proponente annullata la sentenza da parte del giudice in questo caso facciamo l'ipotesi dal responsabile suo app nei 15 giorni successivi il suo app provvede a mandare la pratica la richiesta di nuovo parere corredata magari dall'indicazione della sentenza di annullamento all'asile vigile del fuoco all'ufficio tecnico che aveva emanato quel parere negativo viziato nei successivi 30 giorni l'ufficio l'ente che ci aveva dato il parere negativo provvede a riemettere l'atto naturalmente in conformità alla sentenza del giudice oppure nei 30 giorni successivi alla ricezione dell'atto oppure dalla decorrenza del termine perché qua c'è un silenzio assenso viene riemesso il responsabile suo per riemettere il provvedimento in questo caso in senso favorevole quindi questo è un istituto nuovo di Zecca articolo 21 d'Eces un'altra modifica più marginale devo dire quindi ne parliamo in maniera molto veloce qua veniamo alle innovazioni alla 241 introdotte da Alderdo Legge 77 è stato potenziato il potere sostitutivo il potere sostitutivo lo troviamo anche questo all'articolo 2 della 241 e che cos'è in generale il potere sostitutivo quando un termine previsto per la conclusione del procedimento è decorso inutilmente l'interessato si può rivolgere a una figura interna dell'amministrazione il cosiddetto titolare del potere sostitutivo che si sostituisce per l'appunto a colui che avrebbe dovuto rilasciare l'atto nei termini e conclude il procedimento o attraverso le strutture competenti quindi un ufficio apposito oppure nominando un commissario ad acta naturalmente il commissario ad acta è una misura che ben raramente si vede perché costa mentre attivare le strutture competenti è un rimedio diciamo che per l'amministrazione è a costo relativamente zero e comunque sì al provvedimento finale deve essere adottato in un termine pari alla metà di quello previsto in origine quindi se io avevo 90 giorni e non ho emanato l'atto il titolare del potere sostitutivo avrà un termine pari a 45 giorni dall'attivazione della domanda da parte del privato o d'ufficio come vedremo tra poco con le modifiche apportate nel 2021 c'è la finalità fondamentalmente di rafforzare questo potere sostitutivo attraverso fondamentalmente due misure una lo vedete qui nel nuovo comma 9 bis dell'articolo 2 la parte in rossa e la parte introdotta ex nuovo quindi l'organo di governo dell'ente la giunta comunale in questo caso perché vi ricordo che questo è un regolamento sull'organizzazione interna che può essere l'unico regolamento che ai sensi del tuo lo può essere approvato dalla giunta comunale quindi l'organo di governo adotta individuo un soggetto che può essere nell'ambito delle figure apicali o anche un'unità organizzativa quindi con la riforma del 2021 la giunta comunale può anche prevedere proprio un ufficio apposito a cui attribuire in via generale il potere sostitutivo in caso di inerzi l'altra modifica importante è che questo potere sostitutivo non necessariamente deve essere attivato dall'interessato quindi l'interessato fa domanda al titolare del potere sostitutivo ma può essere fatto anche l'ufficio quindi senza far perdere troppo tempo all'interessato se l'ufficio o la persona fisica competente titolare del potere sostitutivo si accorge dell'inutile decorso del termine del procedimento può attivare direttamente il potere sostitutivo ecco perché nell'articolo 8 della 241 nei contenuti indefettibili della nei contenuti indefettibili della comunicazione del via del procedimento c'è anche l'indicazione del titolare del potere sostitutivo perché vi ricordo o è un ufficio o è una una persona fisica appositamente appositamente nominata un'altra uno degli ultimi aspetti di cui volevo parlarvi è quello proprio del silenzio assenso e qui la normativa qua parliamo del silenzio assenso cosiddetto provvedimentale quindi nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione che sconta come se avete tutta una serie di criticità questo lo sappiamo bene quindi che cosa dice in via generale l'articolo 20 dice che nei casi in cui il silenzio equivale ad accoglimento della domanda il silenzio stesso appunto ha valore di provvedimento e però questo cosa vuol dire che come tutti i provvedimenti l'amministrazione può in via di autotutela annullare o revocare l'atto implicito di assenso quindi come io posso revocare l'esenzio dell'articolo 21 o annullare l'esenzio dell'articolo 21 dell'241 un provvedimento esplicitamente rilasciato così posso anche revocare o annullare un atto implicito che si è formato per decorso del silenzio assenso quindi questo cosa vuol dire che il silenzio assenso è uno stimolo per l'ufficio a provvedere ma non offre una totale certezza al privato sul fatto che ad esempio sia stata fatta una valutazione da parte dell'ente sulla fondatezza della mia istanza cioè io mi avvalgo del silenzio assenso però magari non so nemmeno a meno che non abbia un come dire non abbia interlocuito con il funzionario con il responsabile del procedimento io non so neanche se quell'istanza se la sono guardata o se invece l'ufficio per semplici motivi legati alle ferie alle carenze del personale al covid e quant'altro non ha proprio avuto il tempo materiale di aprire la mia domanda una volta si sarebbe detto del mio faldone ma diciamo della mia domanda digitale non hanno proprio avuto il tempo di guardarle quindi sono semplicemente dei corsi termini quindi questo questo crea un problema acuito dal fatto che io posso avvalermi del silenzio assenso ma soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione se io vado se io come privato vado da una banca la quale è dell'istruttore di una pratica di fido quindi io ho chiesto un finanziamento ho chiesto un prestito gli dico che quella determinata domanda alla pubblica amministrazione è stata assentita da considerarsi assentibile per decorso dei termini insomma fino a un certo punto perché mentre la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire la mia dichiarazione a fare i controlli con un'altra pubblica amministrazione la banca ma in generale le finanziarie tutti i soggetti privati questo non devono farlo non sono tenuti a farlo quindi chiaramente la mia posizione come privato che vado da una banca per avere un finanziamento e dico sì io ho avuto l'autorizzazione commerciale il permesso di costruire per silenzio e assenso capite bene che la cosa è abbastanza relativa perché sono soggetti privati che vogliono quello che una volta si chiamava il pezzo di carta col timbro e firma della pubblica amministrazione e infine ultima criticità del silenzio e assenso non opera il silenzio e assenso per tutti gli atti e i procedimenti che sono relativi alla tutela degli interessi sensibili quindi patrimonio culturale e paesaggistico dell'ambiente difesa nazionale pubblica sicurezza immigrazione eccetera eccetera un elenco dei casi di silenzio e assenso quindi dove si applica il silenzio e assenso lo potete trovare questo è uno strumento utilissimo ne parlammo già in un precedente webinar sicuramente ne avete parlato anche col collega con l'ingegnere Pugioni nella tabella A allegata al decreto 222 del 2016 perché qui è indicato per ciascun procedimento di carattere commerciale o assimilato edilizio o ambientale quali sono i procedimenti per i quali è applicabile il silenzio e assenso va bene allora vediamo quindi posta che questa è la normativa in carattere generale vediamo quali sono state le modifiche introdotte all'articolo 20 dal decreto 77 del 2021 alla legge 241 allora intanto è stato introdotto nell'articolo 20 un nuovo comma il comma 2 bis quando si forma il silenzio e assenso è previsto l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica a richiesta del privato un'attestazione quindi la famosa il famoso pezzo di carta anche se parliamo di telematica io lo dico scherzandolo quindi un'attestazione telematica dove c'è comunque un timbro la firma digitale o la firma scansionata quella che sia un'attestazione che dell'intervenuto accoglimento della domanda nei 10 giorni della richiesta quindi in maniera tale da avere una certificazione da parte del da parte del privato che la domanda è stata accolta se non altro per utile decorso per l'inutile decorso dei termini del procedimento in questo modo io posso andare almeno da un altro soggetto pubblico privato ma immaginiamo soprattutto privato e presentare appunto un'attestazione comunque di un ente pubblico che è importante che succede se nei 10 giorni della mia domanda l'ufficio continua a essere inadempiente in questo caso l'attestazione dell'ente pubblico può essere sostituita da una mia dichiarazione sostitutiva in questo caso una dichiarazione sostitutiva di certificazione quindi un'autocertificazione a tutti gli effetti qual è la finalità della norma è quella di consentire che il silenzio assenza possa operare in maniera piena e riconosciuta quindi riconoscendo questa l'ho trovata nella relazione illustrativa al diritto legge quindi viene riconosciuto il diritto dell'interessato a un'attestazione che dimostri appunto l'avvenuta formazione allora io con qualche minuto di ritardo ho finito il mio intervento adesso leggo qualche qualche slide allora vediamo un attimo leggiamone qualcuno allora buongiorno pongo un quesito pass per impianto biogas perviene dal di fuori dei tempi procedimentali parere favorevole del comune condizionato al rispetto di alcune prescrizioni del regolamento edilizio comunale che il progetto dell'impianto non rispetta quindi di fatto parere negativo come considerare tale parere allora giusto rileggo giusto per capire un attimo meglio la domanda quindi nell'ambito di un pass quindi l'impianto di biogas perviene fuori tempo massimo un parere condizionato favorevole del comune condizionato al rispetto di alcune prescrizioni del regolamento edilizio che però il progetto dell'impianto non rispetta quindi di fatto un parere negativo allora qua ripeto qua siamo davanti alla qua siamo davanti esattamente al problema che ho sollevato prima e cioè qua dobbiamo considerare la regola generale articolo 2,8 bis della 241 dobbiamo considerare questo parere di fatto come lei dice negativo dobbiamo considerarlo inefficace a meno che io non ritenga come responsabile del procedimento non ritenga che vi sono gli estremi per poter applicare analogicamente diciamo così i requisiti le condizioni previste dell'articolo 21 noni e se per l'annullamento d'ufficio quindi in questo caso cosa dovrò valutare dovrò valutare che comunque non si sono formati interessi pretensivi o ostativi da parte di interessati o contro interessati è passato poco tempo quindi non si sono formati interessi meritevoli di tutela giuridica che tutto sommato via un interesse pubblico sostanziale non formale ma sostanziale che mi che mi fa ritenere preferibile se non obbligatorio comunque salvare questo questo parere però come dire qua stiamo dicendo che lei prospetta poi l'ipotesi in cui comunque l'impianto non rispetta non rispetta le prescrizioni del regolamento edilizio comunale quindi mi verrebbe da dire da rispondere comunque sia al di là del discorso che di fatto è negativo quindi il parere il parere favorevole tra virgolette che poi di fatto è negativo è negativo perché ci accende una luce sul fatto che il progetto non rispetta le prescrizioni del regolamento edilizio quindi dal punto di vista della compatibilità edilizia non ci siamo quindi comunque ci sono tutti estremi a mio parere per poter procedere debitamente motivando anche con richiamo richiamando l'articolo 21 nonies ma richiamando anche le norme del regolamento edilizio comunale che si assume siano state violate quindi sicuramente un parere si può procedere con un parere negativo allora procediamo l'inefficacia degli atti tardivi scusate perso la domanda l'inefficacia degli atti tardivi pregiudica anche l'utilizzo di pareri favorevoli privi di prescrizioni particolari ma contenenti le normali prescrizioni di legge no allora ripeto ancora una volta se si tratta di un se si tratta di un parere favorevole privo di pareri di prescrizioni particolari tutto sommato grossi problemi non ne vedo nel senso che siamo sempre lì noi ogni volta che riteniamo che l'atto tardivo debba essere considerato nel nostro procedimento nella nostra istruttoria efficace e non già inefficace nonostante siano dei corsi termini di legge noi dobbiamo dare ancorché succintamente a motivazione del provvedimento in cui li salviamo dobbiamo dire il provvedimento è arrivato fuori termine tuttavia applicando l'analogica secondo il combinato disposto dell'articolo 2,8 bis dell'articolo 21 nonies come si fa tecnicamente in questi casi e quindi ritenuto ai sensi del 21 nonies che vi è un interesse pubblico sostanziale al mantenimento dell'efficacia di quel parere tardivo che non vi sono perché magari non sono decorsi molti giorni molte settimane dalla scadenza dei termini di legge per il rilascio di quel parere non vi sono come dire posizioni consolidate in un senso positivo o negativo da parte di interessati o contro interessati quindi ritengo assolutamente di poter salvare quel parere in maniera tale che poi posso inserire anche le normali prescrizioni di legge contenute nel parere stesso allora si può avere un elenco delle materie soggette ad antimafia per i SUAP allora queste le trovate le trovate fondamentalmente nel codice le trovate nel codice soprattutto nell'articolo 67 ma anche 87 del codice delle leggi antimafie quindi nel decreto legislativo 159 del 2011 sicuramente la richiesta questo per quanto riguarda l'antimafia vi ricordo che è previsto comunque un termine generale è previsto la possibile nei casi previsti noi dobbiamo sempre noi dobbiamo sempre attivare la verifica antimafia naturalmente ci sono anche dei casi in cui è possibile avvalersi del silenzio assenso quindi di corsi 30 giorni dal caricamento sulla piattaforma informatica del ministero dell'interno della prefettura della comunicazione antimafia sicuramente possiamo procedere con l'istruttore ma questo solo laddove appunto sia necessario il rispetto della normativa antimafia altro è il casellario giudiziale quelle sono cose appunto che è bene fare è bene fare sempre quindi questo rientra è un po' nel discorso dei controlli a campione che si possono fare vi ricordo ancora una volta che tranne il caso dell'antimafia con il nuovo articolo 18 il nuovo comma 3 bis dell'articolo 18 noi oggi possiamo procedere tranquillamente assumendo per buono tutti i requisiti almeno di carattere soggettivo morale che ci vengono indicati dal privato allora le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere scansioni del documento cartaceo firmate dal richiedente e poi inviate dal professionista e se sono fatte a nome del professionista e firmate dallo stesso sono valide per conto del committente richiedente allora qua questo è un discorso come dire una vecchia domanda una vexata questio come si diceva una volta che riguarda soprattutto i procedimenti che vanno in piattaforma sulle piattaforme regionali o camerali dove la firma la mette soprattutto la firma digitale la mette il procuratore delegato l'intermediario delegato dall'imprenditore dall'interessato però qual è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci è che l'unica firma che sicuramente deve essere apposta se non digitalmente comunque in maniera scansionata dall'imprenditore quindi dal titolare dall'interessato dal gestore quello che sia è la procura quello è un atto fondamentale che sempre deve esserci sul quale ovviamente se non vi è dovete fare assolutamente una richiesta di integrazione quando non addirittura se lo riteniate un motivo di ricevibilità della domanda perché la procura è quell'atto che consente di capire che si tratta di un vero procuratore e non di un falso procuratore si tratta veramente di un soggetto che agisce per conto nell'interesse dell'imprenditore quindi nel momento in cui c'è la procura il modello di procura è solitamente congiagnato in maniera tale da consentire all'intermediario di firmare lui digitalmente tutti i documenti perché nella procura l'imprenditore assevera dichiara o meglio non assevera dichiara che tutto ciò che è contenuto nei documenti allegati sono almeno per quanto riguarda i propri requisiti soggettivi morali eccetera ancorché i firmati dal professionista sono comunque se ne assume la responsabilità quindi non è una responsabilità del professionista è una ancorché il privato il professionista ponga la firma digitale su quel documento comunque attraverso la procura la responsabilità giuridica ad esempio dei requisiti soggettivi morali o professionali comunque sono sempre in carico al titolare all'imprenditore allora buongiorno in caso di buongiorno a lei in caso di procedimento ordinario di richiesta di integrazione di mancata integrazione nei termini e quindi di conseguente chiusura archiviazione della pratica con esito negativo è corretto fare prima della chiusura un avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis anche in caso di mancata integrazione in caso di procedimento automatizzato grazie allora chiariamo il procedimento questa perso la domanda ecco la p allora il procedimento automatizzato è quello che nel nel dpr 160 del 2010 è il procedimento diciamo per autocertificazione la scia no il procedimento automatizzato l'articolo 5 del dpr 160 del 2010 la comunicazione di motivi ostativi non l'avvio procedimento io attenzione non sto comunicando l'avvio del procedimento sto comunicando l'esistenza di motivi ostativi ai sensi del 10 bis la faccio per la faccio per per le domande di autorizzazione quindi articolo 7 del dpr 160 non articolo 5 l'articolo 5 del dpr 160 è tradotto in termini di legge 241 l'articolo 19 è seguente della 241 altri rimedi istruttori diversi dalla comunicazione di motivi ostativi che sono ve lo ripeto rispettivamente sono previste dall'articolo 19 comma 3 sono la richiesta di conformazione nei casi meno gravi e il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi più gravi quindi se io ritengo che la scia non sia proprio perfettamente a norma eccetera questo me ne ha parlato ampiamente l'ingegnere Pugioni in uno dei precedenti webinar io farò una richiesta di conformazione nella fase diciamo così istruttoria poi nella fase pre-istruttoria io posso fare anche eventualmente una richiesta di integrazione documentale ma quelli sono i rimedi istruttori tipici della scia quindi richiesta di conformazione di vieto di prosecuzione dell'attività l'articolo dell'articolo 10 bis quindi la comunicazione di motivi ostativi è proprio si chiamano comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento della domanda quindi si applica più correttamente soltanto ai procedimenti autorizzatori e non anche a quelli di scia dopodiché lei chiede in caso di procedimento ordinario di richiesta di integrazioni di mancata integrazione nei termini e quindi di conseguente archiviazione della pratica con esito negativo è corretto fare allora qua dipende è corretto fare fare prima della chiusura un 10 bis quindi una comunicazione di motivi ostativi allora dipende la comunicazione di motivi ostativi riguarda il merito della questione cioè io faccio una comunicazione di motivi ostativi perché nel merito quindi una volta superata la fase pre-istruttoria sono già nella fase come dire decisoria istruttoria e decisoria io ritengo oppure altri uffici altri enti ritengono che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della domanda quindi qua stiamo in una fase di esame sostanziale della fondatezza della domanda di autorizzazione il discorso della mancata integrazione nei termini e quindi la chiusura archiviazione della pratica è un automatismo non richiede l'attivazione del 10 bis io già ti ho detto mi devi integrare la domanda ti do un termine di 30 giorni tu eventualmente nei 30 giorni puoi chiedermi un supplemento per no questo lo prevede la 241 perché magari hai delle difficoltà a reperire tutta la documentazione che ti ho chiesto da integrare ma se ciò non faccio se non chiedo proroghe o in ipotesi queste non vengano concessi in ogni caso se il termine ultimo originario o prorogato scade io farò direttamente un'archiviazione della domanda senza nessuna comunicazione senza dell'articolo 10 bis ripeto quello riguarda un aspetto riguarda un aspetto come dire sostanzialistico non formale della della questione allora altra altra domanda il com 8 bis parla di determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini quindi un parere adottato entro il termine data il protocollo ma pervenuto al swap qualche giorno dopo parrebbe comunque utilizzabile senza particolari motivazioni conferma sì confermo assolutamente quello che è importante per noi è sempre allora noi parliamo sempre di procedimenti telematici e informatici quindi dalla posizione di data e protocollo dovrebbe determinarsi una come dire un arrivo un arrivo della pratica dal protocollo a noi in tempo quasi reale però diciamo che qualcosa è andato storto e sono passati due giorni assolutamente in questo caso non avrei problemi a darle conferma proprio per un eccesso di zelo visto che sono passati pochi giorni ma ricordiamoci sempre che noi abbiamo interessati ma anche contro interessati io due righe per dire che il parere ancorché inefficace perché è arrivato dopo qualche giorno comunque assolutamente da considerarsi nella fattispecie efficace quindi intendo conservarlo quindi non considerarlo inefficace perché sussistono i presupposti e le condizioni previste dell'articolo 21 quindi assolutamente non ci sono posizioni consolidate in capo né al destinatario né ai contrainteressati non vi sono vi è un interesse pubblico assolutamente alla conservazione di quel parere che è teoricamente inefficace e quindi procederei senza nessun problema allora il silenzio assenso comunque si forma se sussistono tutte le compatibilità di legge con i vincoli di PRGC con la normativa di settore eccetera la carenza di anche solo di questi non consente la formazione del silenzio assenso si forma ugualmente può essere annullato solo nei 12 mesi anche se sussistono agli atti attestazioni del professionista che assieverano la compatibilità attenzione allora abbiamo detto che uno dei dei bonus dell'articolo dell'articolo 20 ne abbiamo parlato proprio qui in una delle ultime slide ed è che nel comma 4 c'è tutta una serie di casistiche che escludono l'applicazione del silenzio assenso provvedimentale nei rapporti appunto tra il privato e la pubblica amministrazione tra questi ci sono anche ci sono tante tante fatti specie quindi tutela del patrimonio culturale e paesaggistico l'ambiente difesa nazionale pubblica sicurezza immigrazione salute e pubblica incolumità quindi asli vigili del fuoco casi in cui la normativa impone l'adozione di provvedimenti formali ne abbiamo parlato l'altro giorno nell'altro webinar quindi immaginiamo tutta la materia ambientale eccetera soprattutto quella delle emissioni in atmosfera casi in cui il silenzio dell'amministrazione è già considerato dalla legge come rigetto dell'istanza eccetera quindi in tutti questi casi in tutti questi casi sicuramente il silenzio assenso non opera proprio quindi ora nella sua domanda dice si forma se sostissono tutte le compatibilità no il problema non è verificare se sostissono tutte le compatibilità il problema è si forma sempre a meno che a meno che non vi siano queste materie dove già automaticamente per legge esclusa la formazione del silenzio assenso quindi il silenzio assenso si forma si forma sempre tranne tranne in queste eccezioni può essere annullato solo nei 12 mesi allora la risposta è sì sulla base del discorso che vi ho fatto prima quindi qualunque questo lo prevede il comma 3 dell'articolo 20 quindi è come se si formasse un provvedimento un provvedimento implicito invece che è scritto come tutti i provvedimenti può essere revocato o annullato e in questo caso soggiace al termine più breve di 12 mesi introdotto dal decreto 77 del 2021 a meno che a meno che ripeto ancora una volta quel silenzio non si sia non si sia originato per effetto di dichiarazioni false o mendaci dell'interessato quindi in quel caso è pacifico che i termini non sono i 12 mesi ma sono sono permanenti dunque nel caso dei permessi di costruire l'unica verifica dei requisiti morali riguarda l'antimafia non rimbengo a altre norme particolari la verifica deve essere effettuata sui soggetti titolari del permesso ed anche sui proprietari del locale che danno l'assenza agli interventi allora la richiesta va fatta sul richiedente per quanto riguarda i requisiti morali sull'antimafia scusate un attimo sull'antimafia il discorso è un po' un po' dibattuto perché questo se ne è parlato anche nell'Aua nel senso che nulla osta antimafia è un qualcosa che è preordinato in generale esercizio dell'attività quindi anche su questo ci sono interpretazioni non univoche ma sicuramente diciamo così è un qualcosa che va fatta come verifica la norma dice non è possibile porre in essere determinate attività in mancanza del requisito antimafia poi molti danno un'interpretazione invece estensiva di questo principio e ritengono che comunque sia è sempre meglio acquisire questa certificazione in anticipo rispetto alla e invece rispetto al consentire la costruzione di un manufatto di un immobile di un intervento edilizia a soggetti che hanno problematiche antimafie però questi sono i termini della questione allora l'ultima domanda spesso al nostro ufficio capita che le integrazioni pervengono dopo mesi senza che nessuno abbia chiesto proroghe teoricamente la pratica sarebbe archiviata ma il cittadino chiede che venga tenuta in considerazione in quanto il professionista gli chiede ulteriori oneri per ripresentare tutta la pratica lei come si comporterebbe in questo caso grazie allora ma io come mi sono comportato quando ero responsabile su app io questa è una cosa importante dove i programmi informatici le piattaforme regionali camerali di altre software house private eccetera possono aiutare molto e cioè nel momento in cui io ho chiesto l'integrazione non mi è stata fatta la proroga e quei termini scadono in questo caso in questo caso assolutamente io procedo ad archiviare la pratica cioè su questo non ho alcun dubbio quindi è una cosa importante da fare perché la pratica non archiviata è una pratica che rimane lì come dire a bagnomaria quindi assolutamente non è possibile poi resuscitare la pratica dopo mesi e mesi o addirittura dopo anni come a volte a me mi è capitato il problema che il professionista gli chiede ulteriori oneri per ripresentare tutta la pratica come dire è un qualcosa sì che a noi ci può toccare come sensibilità di persone di professionisti ma sempre in quel discorso di no di leale collaborazione tra pubblico e privato ma non è uso un termine un po' forte non è un problema nostro noi abbiamo ben altri problemi come responsabili del procedimento quindi ripeteremo perché poi non ci dimentichiamo che nel momento in cui la pratica è archiviata io ho un pannello di controllo che mi mi tutela pienamente rispetto che mi tutela pienamente rispetto al discorso della della tempistica nel momento in cui invece io tengo una pratica ancora aperta ancorché diciamo così appesa io devo anche se la riapro dopo anni intanto questo mi crea problemi dopo mesi perché possono essere cambiate le norme perché comunque ho già ho già ho già ho già ho già consumato una parte dei termini del procedimento quindi io ripeto io come mi comporto io ogni qual volta ogni qual volta non sono arrivate delle proroghe nei termini utilizzando delle utilizzando l'archivio come dire la piattaforma informatica ma prima ancora le dico molto sinceramente noi utilizzavamo un file di excel dove avevamo tutta la la tempistica di tutti i procedimenti prima di dotarci del software nel caso nostro a Napoli della camera di commercio ma in maniera molto molto pedestre ci si può aiutare anche con dei programmi anche gratuiti dei fogli di calcolo che ti consentono di calcolare automaticamente delle scadenze che ti danno degli alert come gestione della tempistica quindi questo è quello che io mi sento di suggerire di fare poi altre altre questioni rispetto all'esigenza sua mi rendo conto la necessità di venire incontro all'imprenditore che lei può come dire accogliere nella misura in cui mi permetto di dire questo non vada contro l'interesse dell'ufficio di non andare oltre di non andare troppo in là con i termini è rimasto soltanto un minuto quindi non ce la faccio a rispondere alle altre domande io a questo punto Francesca e Stefania avrei finito e vi ringrazio per l'attenzione a tutti e poi a giorni insomma pubblichiamo tutte le domande sul sito di eventi di Pia grazie Francesca non ti sentiamo non ti sentiamo arrivederci a tutti allora grazie buona giornata grazie a tutti